La primavera sboccia i giardini del frontone con il Perugia Flower Show, la mostra a mercato di piante rare e inconsuete in programma quest'anno da venerdì 4 a domenica 6 maggio. Più di 70 espositori provenienti da tutta Italia sono pronti ad accogliervi con le loro rarità tra fiori e piante ma non solo. Dal 4 al 6 maggio ai giardini del frontone Perugia Flower Show. La primavera sboccia i giardini del frontone con il Perugia Flower Show.